www.feyyaz.tv 1-1 Panerai, Paccialieff, Giurgici che nel frattempo è scivolato fino in posizione 5 Campopiano per Paccialieff, diagonale, preciso Che si appoggia sul palo Storpassa Per il quinto gestito adesso da Gambacciani Nora, finte ripetute, il pallone a ravina, disturbato Figari può andare alla conclusione in diagonale Il pareggio del quinto, 2-2 Recupera la palla Mario Guidi Apre per l'entrata e c'è il fallo da rigore su Giurgic da parte di Mijuskovic Gran pallone 2 metri di distanza dal giocatore che tira Palla in rete che spiazza Passaro Anzoni Il disturbo un po' eccessivo di Nora viene pulito con il pallo semplice Alzo e tiro di Paccialieff, immediato canto Prova a salire Vedo lo spunto di ravina che scarica lateralmente La triangolazione e qui la conclusione con rete Lancio lungo Palla che non si sa per chi sia Alla fine Campopiano la deposita in rete 5-3 Gestistizza di Pittarello All'entrata Giurgic, Paccialieff Si sistema nel semicerchio anche Lanzoni Ultimo uomo a sinistra Paccialieff avanza alla conclusione Ancora un bel diagonale per Andres Questo vantaggio che aveva ottenuto in precedenza sul pallo di Guidi Invece questa volta lui a permetterlo su Caldieri Bruni apre per Campopiano Tu per tu con Massaro Lo fa sedere e la palla si accomoda Molina e ravina E serve un assist facile facile per Caldieri E questa è una di quelle occasioni dove poteva andare sul meno 3 Invece sprofonda più 5 C'è un fallo fischiato in attacco proprio la Renan Rilancio lungo di Figari Eccolo il buon pallone Per Nora che riesce a Non speso tanto Savona che continua in fase di controllo Con la prova questa nuotata Con Giurgic Lanzoni E palla nell'angolino Per la rete del... Lanzoni Paccialieff Giovanitti apre per Campopiano Ancora Giovanitti Il tiro frenato da Figari E poi ribadisce in sepe Niccolò Rocchi Il cotellato da Paccialieff per Campopiano Lanzoni Apertura per Giovanetti Ancora Paccialieff Inseguito da Molina Lanzoni E incrocia molto bene Giacomo Lanzoni 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 Lanzoni